Bentornati, sono Marco Vigellini. Oggi continueremo nella sfida numero 4 del mondo tutorial del coding che viaggia con Minecraft Education Edition. Nello specifico vedremo e risolveremo questa sfida numero 4 interagendo attraverso Scratch. Andiamo a riprendere il mondo come lo avevamo lasciato, eravamo a questo punto, questa è la sfida 4 che si presenta davanti ai nostri occhi, il nostro personaggio è questo, eccomi, ok, proviamo a leggerlo insieme. Sfida numero 4, una serie di movimenti si prospettano davanti al nostro giocatore, una corsa ad ostacoli, dobbiamo cercare di premere tutte e quattro le pedane che sono presenti in questa sfida, Questa è la pedana numero 1, là c'è la seconda pedana, questa è la quarta pedana, questa che vedete qui, la terza pedana è nascosta, mi sembra, dietro questa fonte di cascata di lava. Allora, cosa dobbiamo fare per dare le istruzioni al nostro agent per risolvere il tutto? Innanzitutto avviciniamoci in questa posizione, digitiamo T, sulla nostra tastiera, T slash code, in modo tale da avviare l'interazione con Scratch. Clicco questo pulsante, mi viene proposto Scratch, file, load, carichiamo l'ultimo progetto così come lo avevamo lasciato, cioè alla fine della risoluzione, della sfida numero 3. Ok, mi porto questo blocco di istruzioni in basso così da poterlo utilizzare e ricordarlo, premo lo spazio in modo tale il giocatore, il nostro agent, viene teletrasportato proprio sotto la mia posizione. Allora, proviamo a capire come possiamo dare delle istruzioni simpatiche affinché il nostro personaggio completi questo percorso. Ho dato un'occhiata in precedenza, non mi sembra che ci sia una certa possibilità di dare una risoluzione automatica, così come è avvenuto nel caso della sfida precedente, e quindi proviamo ad inventarcela. Io sto vedendo che l'agente innanzitutto è da un livello più basso, poi deve percorrere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passi, poi deve girare a sinistra ed andare avanti. Questo per arrivare sulla prima pedana. Quindi, dubblichiamo questa serie di istruzioni e diciamo che quando premiamo il tasto numero 4 della nostra tastiera in Scratch, invieremo il messaggio numero 4, quando il nostro Scratch riceverà il nostro messaggio 4, abbiamo detto che l'agent deve eseguire una serie di istruzioni. La prima di tutte è quella di andare su. Duplica, poi deve per 7 volte, mi sembra, andare avanti, forward, 7 volte, poi deve girare a sinistra e andare avanti, sinistra. Ok, quindi proviamo ad eseguire questo blocco, premo il tasto numero 4, questo blocco invia il messaggio a quest'altro blocco e il nostro agente comincia a muoversi. Sinistra, ahhh, ho sbagliato qualcosa. Move, sinistra, ho sbagliato, era un turn, sinistra, che è questo, e move forward, perfetto. Come avete visto c'è la possibilità di, diciamo, andare a sinistra senza ruotare. Ora, continuiamo con il nostro automatismo. Ritorno qui, trasportiamo il nostro agent, e mi sta venendo in mente che magari ai nostri ragazzi possiamo dare questa sfida. Allora, fate sì che, siccome ci sono 4 pedane a pressione, voi, plate1, mi risolvete il tutto creando 4 funzioni. Quindi questo set di istruzioni va esattamente qui sotto e io lo risolvo così. Creo la seconda funzione, plate2, creerò la terza funzione, plate3 e plate4. Allora, in questo modo, per esempio, possiamo aver chiesto ai nostri ragazzi di scomporre un problema più complesso in piccoli sottoproblemi. Quindi, alla fine, i nostri ragazzi dovrebbero, scusate, eseguire un qualcosa del genere. Allora, andiamo a vedere la risoluzione del plate2. Allora, il nostro personaggio dovrebbe essere qui. Deve fare un movimento in alto, un altro movimento in alto, poi, andiamo a vedere così non ci sbagliamo, si trova qua dietro, deve fare un movimento avanti, un altro movimento avanti, scendere di uno e andare avanti. Quindi, mettiamoci da qua e guardiamolo nuovamente. Due in alto e due avanti. Quindi io duplico un po' di comandi. Due avanti, duplica. Questi invece devono essere due in alto. Su, su, avanti, avanti, poi ce n'è uno giù. Move back, e un altro in, scusate, non back, ma è giù. E questo è avanti. Perfetto. Questo non ci interessa. Vediamo se io premo adesso il tasso numero 4, in Scratch, cosa succede al nostro personaggio. Vediamo se risolviamo opportunamente. Questo si è acceso. Perfetto. Ed è il numero 2. Si sono accese le due lampade. Adesso deve ruotare a destra. E fare uno, due, tre passi in avanti. Quindi, troviamo il turn. Deve ruotare a destra. deve completare tre passi in avanti, poi un movimento in alto, move su, e poi uno, due e tre avanti di nuovo. Dobbiamo, dobbiamo questi, questi non ci servono. E anche il plate 3 dovrebbe essere fatto. Andiamo indietro per teletrasportare il nostro personaggio, in modo tale da fargli rifare. Premo lo spazio. Tutto il percorso. Ok, quindi guarda di là, quindi in questo caso, dobbiamo farlo girare a destra. È pronto. Premo il numero 4 e seguiamo il nostro personaggio. con la speranza che non bruci quando arriva qui. Perfetto. Plate 3 fatto. Vediamo se anche la terza luce là in alto si è accesa. Ora, come facciamo arrivare il nostro agent a questa petana a pressione? Allora, possiamo fargli fare destra, poi uno, due, tre. 3, poi un altro destra. Allora, un passo alla volta. Allora, turn destra. Ripetiamo questo. Va avanti e lui si troverebbe in questa posizione qua, perché ne fa uno, due, tre. Si trova qua. Lo dovremmo fare girare nuovamente a destra, per esempio. Così. Ah, ok, ho fatto il doppio clic e si è mosso. Giro a destra. Poi, cosa possiamo fargli fare? Un avanti, in basso, avanti, in basso. Ok, per due volte, quindi, è un avanti, duplica. E poi, giù. Gli facciamo fare le scale. Due. Poi dovrebbe essere un... Dovrebbe stare proprio qua sopra, sopra l'acqua, ma lui cammina nell'acqua. Un fenomeno. Un sinistra. Anzi, vi dirò di più. Gli facciamo fare, guardate che cosa... Gli faccio fare un move... Non un turn, ma un move sinistra. Quindi lui si troverà di qua, però di schiena. E gli facciamo fare una bella camminata all'indietro di uno, due, tre blocchi. Quindi un ripeti per tre volte. Un move back. Non sono assicuramente convinto che sia corretto. Teletrasportiamo il nostro agent nel punto di partenza. Spazio. Eccolo. Ok, quindi deve girare a sinistra. Turn sinistra. Pronto. Premo il numero quattro e seguiamo il nostro personaggio. Vediamo se siamo stati bravi. Voi sicuramente. Io chissà. Avanti. Ok. Uno, due, così. Uno, due, tre. Bravissimi. A questo punto la quarta luce è accesa. Uno, due, tre. Questo è il quarto. Cinque all'indietro. Quindi se io aggiungessi questo un otto. Perché erano cinque all'indietro, tre ne aveva. E poi un move. Facciamolo girare perché altrimenti non è carino presentarsi di schiena. Turn sinistra due volte. E poi un move. Un move. Ehi. Giù. Dovrebbe essere arrivato forward sulla piattaforma gialla. Dove è andato il nostro agente? Ah, è rimasto lì perché ho cliccato qualcosa. Perfetto. E sentivo camminare, infatti. Allora. Pronto. Spazio. Il nostro agente è qui. Deve fare un bel turn sinistra, turn sinistra. Così guarda le scale come consueto. Premo il numero quattro. E vediamo se il nostro fenomeno... Ce lo vediamo da qua, guardate un po'. Che c'è questa bellissima visuale. Via. Perfetto. Ok, dai. Siamo riusciti a illuminare le quattro... Le quattro colonne della sfida numero quattro. Ok, perfetto. È tutto anche per oggi. Grazie a tutti.